Questo programma è offerto da Buonasera a Daniele Emanuelli, quindicesima puntata in stagione di Sport Up Si è giocata anche la quindicesima giornata del campionato in Serie D Girone D che ha visto all'attivo ben 28 gol Di cui 5 vittorie interne, 4 vittorie esterne e un solo pareggio Come sempre vado a presentare Chimia Francherà stasera nella conduzione Do la buona serata alla nostra Valentina Violini Buonasera a tutti Colgo l'occasione per salutare Matteo Zampini Che cura la nostra pagina Facebook Sport Up Rimini E ricordarvi il numero Facebook e SMS con cui interagire con noi 333 60 94 299 Bravissima, allora andiamo subito a presentare gli ospiti di questa serata Li troviamo con piacere l'allenatore Massimo Zanini Ciao Massimo Buonasera Buonasera a te Lui tifoso, opinionista bianco-rosso Emanuele Pironi Ciao Emanuele Ciao buonasera a tutti Invece ringraziamo come sempre la società del Rimini Anche l'ufficio stampa Sergio Cingolani Il difensore del Rimini Alessio Petti Ciao Alessio Buonasera Tifoso del Rimini Cristiano Cervara Buonasera a tutti Buonasera Fammi vedere il tuo bel solito Sei tranquillo stasera? Sì dai molto Sì Abbiamo giocato bene Va bene È già detto tutto Andiamo a vedere i risultati classifiche con la nostra Valentina e con il nostro Stefano Così capiamo nel dettaglio quello che è successo Perché sono tante le cose che abbiamo stasera Prego Valentina Abbiamo visto il Castelvetro imolese con il risultato 0-2 Correggese, Aquila, Montevarchi 1-3 Fiorenzuola, Romagna Centro 1-1 Forlì, Lentigione 2-1 Pianese, Mezzolara 3-0 Rimini, Sporting, Trestina 2-0 San Giovannese, San Maurese 2-1 Sasso Marconi, Colligiana 4-0 Villa Biagio, Vigor, Carpaneto 0-1 San Sepolco, Tutto Cuoio 1-2 Bene, andiamo a vedere anche la classifica Grazie a te abbiamo saputo che la Trestina non gioca più in questo girone ma gioca in Trestina Bravissima questa sera, vai Mi piace che si prendi questa cosa Abbiamo in testa il Fiorenzuola con 34 punti Rimini 33 Villa Biagio 31 Imolese 29 San Giovannese 27 Aquila, Montevarchi 26 Forlì, Lentigione, Romagna Centro 22 Pianese 21 Sasso Marconi, Tutto Cuoio 19 Vigor, Carpaneto 17 Sporting, Trestina San Sepolcro 16 Castelvetro 15 San Maurese 14 Colligiana 13 Correggese e Mezzolara 10 Benissimo, molto brava Adesso andiamo ad analizzare proprio con i nostri ospiti Quello che è successo nell'ultimo turno Massimo, ieri è lì da vicino a vedere la partita del Rimini Ti è piaciuta la gara? Ti chiedo solamente questo Non era chiusa smante Però sì, comunque è un Rimini nuovo Mi sembrava di vedere un Rimini diverso Per cui vedremo Vedremo Sarà bello rivedere poi domenica prossima Hai avuto tempo di rifiattare Sei pronta? No, vai te Ti metto la prova a te Va bene, allora andiamo a vedere il primo servizio di questa serata Tutti i gol del girone Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusa Rul Da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa E le nostre pizze, cotte nel forno a legno Timbotta è il nostro motto Da sempre offriamo qualità Ristorante Brusa Rul Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni Con ampio parcheggio esterno e isola per bambini Info 0541 68 81 80 O brusarul.com Quindicesima giornata di Serie D Girone di ricca di gol Ben 29 le reti messe a segno Frutto di 4 vittorie esterne 5 vittorie interne e un solo pareggio Tra le vittorie esterne si segnala quella dell'Imoleese Che vissa il successo di domenica scorsa Con i Rimini sul campo del Castervetro Con risultato all'ingresa Di Borelli al 55esimo E di Valentina al 62 Le reti della vittoria Poker invece per il Sasso Marconi Che mette in vetrina L'ex pro non sei l'autore di una doppietta Tra il quindicesimo e il 35esimo Della prima frazione di gioco Di Benatti la reti in apertura Ritorna a gol invece per l'ex pro Lecce, Bologna e Rimini Luigi della Rocca Al minuto 77 Passiamo ora a vedere le immagini A nostra disposizione Vince la San Giovannese per 2 a 1 Contro la San Maurese La vittoria porta le firme di Kewee Al 19 del primo tempo Con una bordata alla distanza Che merita l'applauso finale Lo stesso Kewee con cost to cost da urlo Si procura il rigore Che Yuki ci trasforma Archiviando la pratica Già dopo la mezz'ora di gioco Per la San Maurese Di mezzo alle distanze Lo uatti Sempre dagli 11 metri Cramoroso capò intero del Villa Biagio Che permette a Rimini di scavalcarlo A secondo posto della gradatoria Gli Umbri cadono tra le mura amiche Contro i Carpanieri Di Stefano Mauri Il gol vittoria Minuto 63 Con un tocco sotto morbido E delicato Nell'anticipo del sabato Il tutto coi in salute E spugna il campo del San Sepolcro Lo fa con una vittoria convincente Già in apertura di match Gregorio porta i Neroviti In vantaggio Sfruttando un assist A calcio piazzato Mortaro al 78 Trovava il pareggio Grazie a un penalty Trasformato Ma il gol vittoria ospite Per bene e per opera di cortopasso Al minuto 83 Con un preciso pallonetto di testa La pianese di giustezza Torna al successo Lo fa liberandosi in casa propria Dello stacolo Mezzolara Festa aperta da Giustanini al 29esimo Con un tap in vincente Sottomisura Raddoppio in chiusura di tempo Grazie al contributo del solito golfo Gol coppia del primo Altro tap in vincente Nella ripresa Tris Lo firma l'ex Sant'Arcangelo Ferri Al minuto 75 Torna a sorridere anche l'Aquila Montevarchi I toscari vanno sotto in esterna Contro la Correggese L'Andia 14esimo Apriva i giochi Dopo essersi divorato Un gol incredibile In contropiede Ma in chiusura di tempo Dal dischetto Esosì fa 1-1 Nella ripresa Sempre dagli 11 metri Rossetti Eseguiva il sorpasso Prima che Esosì All'85esimo Trovasse la personale doppietta Di testa Per il 3-1 finale Pareggio per 1-1 Tra Fiorezzola e Romagna centro Mezzo passo falso Per i rossonieri Che subiscono L'iniziale vantaggio Realizzato dagli 11 metri Da Cecconi I romagnoli I prossimi avversari del Rimini Tengono più di un tempo Poi al 62esimo Vittoria per i Folì Una doppietta Di Ferri Marini Cini spedisce all'inferno In lentigione Smarrita la strada Della vittoria Per gli ospiti Che si vedono Colpire dai Galletti Al 20esimo E al 50esimo Galluppo Rimezzava le distanze Al 66esimo Grazie a un calcio di rigore Tanti i penalty decisivi In questo turno Saranno ben 7 Dietro la lavagna Mettiamo la formazione Della San Maurese Non tanto per la sconfitta Maturata contro la San Giovannese Ma se si continua Di questo passo La retrocessione È dietro l'angolo In vetrina Regaliamo la copertina Stefano Mauri Suo è gol Che permette a Rimini Di scavalcare Villa Biagio Conquistando Il secondo posto In classifica Tu approvi Vero Cristiano? Assolutamente Senti Era attento L'ho visto tutti Senti Tu che sei amante Delle statistiche Poi voglio fare Anche una battuta veloce Prima di allacciarmi Ad Alessio 7 penalty ieri Tutti decisivi Per quanto riguarda I risultati finali Sì 7 rigori Adesso chiaramente Non abbiamo potuto vedere Se fossero Giusti o meno Però insomma Dai Segno che evidentemente Anche Rimini Qualche rigore L'ha avuto Qualche rigore Non l'ha avuto Qualche rigore Contro L'ha avuto È abbastanza Movimentato Sotto questo punto di vista La faccenda Quest'anno Tu Emanuele Ti faccio i complimenti In diretta Perché sei stato Uno dei pochi A dirlo Quando soprattutto Il campionato Era iniziato Era la seconda giornata E il tutto cuoio Non erano tre punti facili Da fare in trasferta Infatti si è visto Perché è una squadra In salute E questo momento È tra le squadre Più in salute Del campionato Beh comunque si vedeva Anche se Noi giocammo là Con un campo Che era veramente Indecifrabile Cioè Mi ricordo che Al ristorante Un'ora Un'ora e mezzo Prima Eravamo convinti Non si sarebbe giocato Sì Poi siamo arrivati La partita si disputò C'erano varie zone del campo Dove c'era veramente 15 cm d'acqua Si è giocato Siamo riusciti a venirne fuori Però si vedeva Che la squadra era quadrata Non era una squadra Pur avendo una classifica In quel momento Non eccezionale Era una squadra Che sapeva stare in campo E quindi Non ti faceva giocare E tentava di colpirti La classifica adesso dice Che in effetti Quell'impressione era giusta Alessio Troviamo Diciamo Una nota positiva Anzi Sicuramente positiva Perché avete perso Domenica scorsa Con Limonese Però ieri In virtù anche della vittoria Con lo Sporting Trestina Una mano L'avete visto L'avete avuto Sia dal Romagna Centro Che ha bloccato la capolista Fiorenzola sul pari Tra l'altro Romagna Centro Il prossimo avversario sabato Al Manuzzi Sia anche Soprattutto dal Carpaneto Che ha vinto sul campo Del Villa Biagio Sì sicuramente Tornare alla vittoria È importante È stato importante Anche in virtù Dei risultati Che ci sono stati Quindi è stata Una vittoria Diciamo che È balsa doppio Quasi Perché magari Se il Fiorenzola Non avesse pareggiato Alla fine Sarebbe stata Una domenica perfetta Però Ne pensiamo a noi Abbiamo vinto Una parità non semplice Però si è riuscito A portarla a casa Quindi era Quella la cosa più importante Soprattutto serviva Subito una scossa Una pronta reazione Dopo la sconfitta Con le Molise Voi l'avete fatto Esatto Massimo Allora Un campionato che si fa Sempre più interessante Secondo te Tu che sei dentro Lo spogliatoio L'hai vissuto più di una volta Come mister E vivi calcio A 360 gradi Loro Un'occhiata Alla classifica Per capire se anche A Natale Riusciranno ad essere Al comando La stanno dando In questo momento Ma è difficile Difficile capire Però Rimini Lo vedo Alternato A volte Fa delle belle prestazioni A volte Fa delle cose Anche molto Molto buone Però non l'ho ancora Ben definito La volta prima Che ero qua Ho detto che era Un Rimini Che ha cominciato A divertirsi E si vedeva Si vedeva molto bene Che c'era Qualcosa Un cambiamento Un cambiamento Secondo me Era frutto anche Di quella Prima partita persa Non so Non so Sinceramente Difficiare Diciamo Non so bene Visto domenica Che Rimini Può essere Già per sabato Allora In base anche A quello che Stai dicendo adesso Ti faccio vedere Quello che è successo Entriamo nel cuore Della puntata Andando a vedere La sintesi Tra Rimini Sport in Trestina A Viserbella Trovi L'Adriatico Il più antico Ristorante e pizzeria Che offre La migliore Ospitalità romagnola Tra le specialità Pesce freschissimo Di eccellente qualità Selezionato Dai migliori fornitori Carni di primissima scelta Pizze giganti E ricche di ingredienti Freschi di stagione Realizzate con un impasto Ad alta digeribilità Dalla pizza Alla tagliata di manzo Passando per gli antipasti Di pesce Provando tutti i veri sapori Delle specialità mediterranee Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour Un aperitivo fatto in casa Con una ricetta speciale Ristorante Pizzeria Bar Adriatico A Viserbella In via Portopalos 64 Info 0541 72 15 55 Con i risultati all'ingresso Rimini Tona sorride Sbarazzandosi Nella versione di turno Chiamato Sport in Trestina Muccio in avvio Rinuncia alla coppia offensiva Composta a Buonaventura Ambrosini Spazio a Cicarevici Arlotti Supportati in linea esterna Dallo sprint del solito Goiebre Gli ospiti cercano punti importanti In Romagna Approfittando di un Rimini Che arriva dallo scivolone Di Imola In effetti Nei primi dieci minuti di gara Non succede Assolutamente nulla Poi a quattordicesimo Un palese errore difensore Degli ospiti Porta al Tio Dal limite a Cicarevici Conclusione ribattura Da un difensore Iconer Primo angolo della partita Nell'azione alla banderia Dopo un batte e ribatti La palla arriva a Cicarevici Che insacchi in diagonale Ma il guardaline Segna la posizione Di fuorigioco Passano una decina di minuti E lo stesso Monteregrino Prova a risolvere di testa Due passi dal portiere Che riesce a rinviare Ancora sui suoi piedi Ma dalla posizione di filata Alza la palla Sopra la traversa Nell'occasione più limpida Per i biancorossi Con gli ospiti Ancora assenti Fatto di pericolosità Avviene attorno alla mezz'ora Quando all'otta E sul cross di cola Trova un diagonale Mellenoso Che c'entra il palo Lo Sporting Trestina Non riesce ad uscire Dalla propria metà campo E quasi quasi La beffa arriva da sola Quando Gugliebre Fa su a una palla Che sembrava sfilare sul fondo A cross dentro Un difensore Ci mette una pezza Rischiando L'incredibile autorete Solo Con Lo stesso Gugliebre In cucina di tempo E segue un tiro Che termina A fin di palo Nella ripresa Irimini prova da subito A sbloccare la gara Di Guglie a terzo E segue un bolide Da fuoriare Che però si alza tanto Sopra la traversa Di Garbinesi Un minuto dopo Ci fa vedere lo Sporting Trestina Con un cross da tre quarti Sinistra Per la testa di Villanova Che non arriva Per un soffio Dall'altra parte Anche Valeriani Ci prova dalla distanza Facendo arrabbiare pubblico E compagni Per non aver allargato L'azione Palla altissima A settimo Irimini sblocca la situazione A notti servito da cicare Invece trova All'esterno destro Vincente Che manda in delirio Il pubblico amico Recando un sorriso Anche alla panchina bianco-rossa La troppa esultanza Con conseguente Abbandono della maglietta Valle una munizione Ma per il ragazzo Del Pogno Espresso Questo è altro Irimini insiste Ottimo lavoro di Guglie Che sulla fassa Salta due uomini Arriva sul fondo E crossa Bucando le mani del portiere Ma sul secondo palo Vetti Non ci arriva E la palla sfila In fallo laterale Lo Sporting Trestina Si fa vedere Con una semirovesciata Di Ridolfi Su assist di Villanova Che sfiora la traversa Dalla porta Difesa da Scotti A quarantesimo Gli ospiti vanno vicino Al bersaglio Sferando i gol dei pari Con il tiro potente In diagonale di Marconi Che termina di un nulla Alla destra di Scotti Ma a gol sbagliato Di conseguenza Corrisponde La cosiddetta regola Del calcio Gol incassato Quarantaquattresimo Rimini che perviene A raddoppio Guiebre di esterno sinistro Piega le mani Al portiere Sul suo palo E fisso il punteggio Sul 2-0 Gioia anche per l'esterno Biancorosso Tra i migliori Di questo match All'ultimo respiro Petti Rischia l'incredibile Autorete Su un cross da sinistra E regala Il primo angolo Della partita Allo Sporting Trestina Termina qui Una partita Che riporta i rimini Nei piani alti Della classifica Approfittando anche Del pareggio Del Fiorezzola Contro i Romagna Centro Prossimo avversario Dei Biancorossi Sabato prossimo Aldino Manuzzi Di Cesena Adesso stavi per fare Un euro gol Sì La porto sbagliato Senti qui Ti riporto un po' Le dichiarazioni Del tuo partner difensivo Andrea Big La scorsa puntata Era ospite qui da noi Ha detto che Sicuramente all'inizio Come tutti i giocatori È normale che siano Vi conoscevate Avete avuto un po' Di difficoltà Poi pian piano Le cose sono migliorate I molese Permettendo C'è grande feeling Con lui Come del resto Con tutti i compagni Della difesa Sì sì Stiamo iniziando A integrarci Con che sia Conoscersi Perché non è Non è facile Con che sia Ruolo delicato La difesa Bisogna amalgamare Un po' Tutti i meccanismi Però adesso Speriamo di aver superato Lo scoglio grosso Diciamo Di 5 gol presi Da Limolese E riuscirci un attimo A ristabiliare un attimo Anche ieri Non abbiamo subito gol È una cosa importante Per noi Che Tutta la settimana Tutte le domeniche Proviamo a farlo E riuscirci È una cosa importante Per il difensore Meglio di fare gol Quindi Ci stiamo provando E speriamo di riuscirci Ogni domenica Sarebbe la cosa migliore Tra l'altro Tu in base a una intervista Che avevi rilassato Se non erro L'avevo detto anche Nel servizio precedente A Dimone A Cassatura Non avevi mai giocato Allo Stadio Galli Esatto Io a volte l'avversario Ho fatto le migliori dei modi Da dimenticare Comunque Hai segnato anche un gol In questo torneo Se non erro Nelle prime giornate di campione Con Castelvetro 3 a 2 Quella fu una Delle tante partite Storiche Per come l'avevate Poi messa E rimontata E poi vinta Volevo chiederti questo Hai sentito prima Massimo Che ha fatto un po' Il Daniele della situazione Ti ha un po' punzecchiato Nel senso che tu Giustamente Hai origliato Ma non hai potuto rispondere Ma io adesso ti faccio rispondere Questo Rimini A corrente alternata Come vai? No Rimini che secondo me È sempre stato Ed è Secondo me Una squadra Equilibrata Non è una squadra Che magari può far divertire Tutte le domeniche Però è una squadra Che deve essere concreta Tanto nel calcio serve quello Serve concretezza Non ci nascondiamo Che sicuramente Magari sono squadre Che giocano meglio di noi E fanno divertire Però noi Noi ne badiamo al sodo Badiamo magari A non essere belli Però cercare di portare a casa Il risultato Che credo Che a Rimini Ma in qualsiasi piazza Conta quello Più che altro È normale Se uno riesce a unire le due cose È tutto riguadagnato Però credo che Questo arriverà magari In momenti migliori Anche in bel gioco Più di passare a Cristiano Emanuele e Massimo Nell'ordine Adesso ti faccio l'ultima domanda Poi ti lascio un attimo respirare L'impatto con l'ambiente Era quello che ti aspettavi Con la tifoseria Vista magari più volte Anche in televisione O perché no Anche dal vivo Da avversario Era quello Ti aspettavi un ambiente così caldo Sì 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 Mi aspettavo Perché comunque sia a Rimini È una piazza importante Ed è normale Che ci sia questo Questo seguito E questa Questa aspettativa Dietro la squadra Quindi è giusto così Anzi I tifosi sono stati anche Secondo me Sono comportati benissimo Ogni domenica Perché sono sempre venuti A seguirci Dove abbiamo giocato Abbiamo giocato Abbiamo sempre giocato In caso praticamente Quindi è una cosa importante E ci ha sempre dato la mano Bello questa affermazione Poi la faccio completare Da Emanuele Però prima vado Da Cristiano Il commento tecnico E dopo avrai l'analisi Da parte Più puntigliosa Da parte di Massimo Ieri ero allo stadio Che partita hai visto Come ti è sembrato Questo Rimini Seguendo anche un po' Il discorso Di un protagonista Ieri in campo Secondo me Ne parlavamo prima Nell'antistudio Rimini è stato bravo Ieri Perché io Non dimenticherei Le condizioni In cui è stata affrontata La gara di ieri È vero che di fronte C'era un avversario Che non è sembrato Tra i più irresistibili Nonostante la classifica Non fosse Per nulla disastrosa Però in campo Lo sport in Trestina Ha dimostrato Di essere abbastanza Modesto Però Quando affronti Un avversario Che comunque Viene a Rimini A difendersi A giocare Senza nulla da perdere Devi stravolgere Stravolgere Insomma Comunque giocare In un modo diverso Rispetto a quello Che ti sei abituato Nei ultime settimane Perché il 3-4-1-2 Ieri non si poteva fare Si è fatto un 3-5-1-1 Con Ciccare Vici dietro Arlotti Non c'era una buona avventura E Ambrosini 15 gol Sono venuti a mancare In una botta sola Non è facile Poi magari Sono partite Che ti si possono Anche mettere di traverso E vai a capire Poi Invece la squadra Dai Ti ha tenuto sempre Il pallino del gioco In mano Bravia A sbloccare Ecco Per 3-4 direi Un bicchiere Appunto Un bicchiere Per 3-4 pieno L'ultimo quarto È proprio L'ultimo quarto d'ora È quello che Insomma Ha lasciato un po' perplessi Perché Mano a mano Che la La visibilità Calava proprio Che scendevano Le Le Ombre della sera È calata anche L'intensità Della squadra E secondo me Farsi attaccare Rischiare di beccare Il pareggio Della squadra Così Si poteva evitare Poi Tutto bene Quello che finisce bene Per 2 cm Il tiro del terzino Marco È andato fuori E poi Guiebre ha fatto Il 2-0 Benissimo Sai a volte Sono anche questi episodi Che decidono Che cosa diciamo Noi lunedì sera Immaginiamoci Fosse andato dentro Quel tiro In diagonale Cosa vorremmo detto adesso Però insomma È andato tutto bene Non era facile Ripeto Quindi Un elogio Secondo me La squadra L'ha fatto Nell'ordine Emanuele ti faccio subito E rispondo ad Alessio Ha detto una bellissima cosa Che lui come giocatore Non si è sentito mai Fuori casa Perché Ovunque andavano a giocare Era come se giocassero in casa Questo è un bel complimento Per la tifoseria Se vuoi aggiungere qualcosa Sì sì Io aggiungo che La tifoseria Per quanto riguarda La parte più Umorale La parte più viscerale Non è mai mancata E non mancherà certo adesso Vedrete domenica Sabato Che cosa saremo capaci di fare In quello stadio là Che è già Ci sono dei pulmini Già pronti Sì sì I pulmini ci sono Contattate pure Tutte le Le preventite solite Perché ci stiamo organizzando Per salire La curva sale in treno Dopo poi dirò anche qualcosa Su questo Perché io poi Non sono contentissimo Di andare a giocare al Manuzzi Sinceramente E dopo te lo chiedo I fatti Però Diciamo che Vedrete cosa sappiamo essere Anche in un contesto come quello Preparati Sono rimasto un pochino Un pochino perplesso Ieri perché Ieri era la giornata ideale Per venire a vedere una partita È chiaro che lo Sporting Trestina Non è neanche la Triestina Su cui scherzavamo l'altra volta Purtroppo è lo Sporting Trestina Però era una partita importante Venivi da 5 gol subiti Quindi sapevi che Dovevi gestirla anche mentalmente Perché più tempo passa Prima che la sblocchi E più quei 5 gol Ti tornano in testa Quindi siamo stati bravi Anche da quel punto di vista lì Secondo me Io mi aspettavo le tribune Un pochino più piene C'era la temperatura giusta Non pioveva Ieri c'era tutto quanto Si gioca alle 2 e mezza Vuoi portare la fidanzata A fare shopping dopo Hai tutto il tempo O ti trovi la fidanzata Che gli piace il calcio Meglio ancora Però se hai degli impegni Vuoi avere anche un extra calcio Hai tutto il tempo Le 4 e mezza Te ne vai Hai tutto il tempo Per passare la domenica e pomeriggio Ieri secondo me Le tribune erano un pochino sguarnite Mi aspettavo un pochino più di presenza Non ti è piaciuta questa sera? Quando è il caso di dire bene Di un qualcosa Lo si dice Ieri sono rimasto un pochino male Perché mi aspettavo più gente Sento che la squadra È permeata molto all'interno della città È ben voluta Ci sono persone che anche non seguono Che però guardano il televideo Ti chiedono come va Sono vicini Anche sponsor Persone che non verranno mai A vedere la partita Sono contente Di partecipare A un qualcosa Che dà lustro alla città Però ieri è mancata Un po' di presenza Un po' di partecipazione Non certo Delle carogne Noi ci siamo sempre I 1500-2000 Noi ci siamo E vedrete cosa saremo Sabato pomeriggio Anche se dopo Se me lo fai dire Io non sono contentissimo Di andare Sì tra poco arrivo anche da te Su questo particolare qui Massimo Vedevo che ascoltavi Il nostro collega Cristiano Cerbara In merito all'analisi Del match di ieri Lui prima parlava di bicchiere Io ti Da furbetto che sono Ti cambio leggermente la domanda Questo bicchiere In questo momento Cosa c'è dentro Birra, Coca-Cola Vino o champagne No no Sicuramente champagne Voglio dire In questo momento Rimini Anche se Magari non gioca bene Ma la federazione Conta poco I tre punti Arrivano alla federazione E non arrivano mai le immagini Per cui Vanno benissimo In questi tre punti Chiaro che Probabilmente Rimini Deve fare ancora Qualcosina in più E so alcun video Che lo possa fare Non è sicuramente facile Sabato Quando confronterà Questa roba Agniacentro Perché Mi ricordo un po' Al discorso Della volta precedente Insomma Conoscendo Campidelli Sì Qualche problema Può causare Al Rimi Valentina Ora andiamo a vedere Le dichiarazioni Inerente ai due tecnici Io sono Penso che oggi Sia stata una Come atteggiamento Come maturità Come gestione Della gara A parte la parte centrale Del secondo tempo Penso che sia stata Una delle migliori prove Che abbiamo fatto Anche perché Comunque giocavamo Contro una squadra Che veniva da due risultati Utili consecutivi Dopo il cambio di allenatore E hanno dimostrato Di essere comunque Una squadra solida Una squadra compatta E' chiaro che Quando Vengono qua E si chiudono Nella loro metà campo Devi essere bravo A non avere fretta Ad avere pazienza E cercare Gli spazi giusti Secondo me Già nel primo tempo Potevamo chiudere in vantaggio Adesso Mi dicono anche che Insomma il gol di Ciccarvic Fosse buono Però vabbè Comunque siamo Rientrati nello spogliatoio Secondo me Dopo Un buonissimo primo tempo Dove fra l'altro Abbiamo anche Cambiato un po' Il modo di giocare Perché Non avendo Davanti Riferimenti Come poteva essere Buonaventura O Ambrosini Abbiamo Abbiamo cercato Di Di mandar dentro Le mezzali E non dar punti di riferimento Con Arlotti Sicuramente Nel secondo tempo Siamo stati più bravi A trovare il trequarti Ciccarvic Primo tempo Magari La mezzala Si alzava Si apriva Anziché alzarsi E andava a chiudere Un po' Lo spazio A Ciccarvic Secondo tempo Siamo riusciti A trovarlo Spessissimo Vicino Abdull Sulla sinistra Con pazienza Abbiamo trovato Il vantaggio E poi Ho detto A parte Quei dieci minuti Dove ci siamo un attimo Riassestati Anche perché Comunque Quando Gli avversari Si trovano sotto Magari Si rompono un po' Gli schemi E mandano Avanti Tanti uomini Abbiamo Siamo stati sempre In controllo E quindi Sono molto soddisfatto Ma come ho detto Noi pensiamo Una domenica alla volta Io Mi hanno Un po' Attaccato Quando avevo detto Che Per noi Era un campionato Di consolidamento Io Volevo fare anche Chiarezza su sta cosa Perché l'avevo detto Anche all'inizio Un campionato Di consolidamento A Rimini Non può essere Come un campionato Di consolidamento In un'altra piazza Noi dobbiamo essere bravi A pensare Una partita alla volta A rispettare Sempre l'avversario Con umiltà Con determinazione Con voglia Di sacrificarsi E cercare Di andare in campo Sempre per il massimo Anche perché Sicuramente Lo dobbiamo Ai tifosi Lo dobbiamo All'ascettare Lo dobbiamo Alla piazza Al primo tempo Abbiamo fatto l'incudine Cioè Una squadra Che cercava Di stare organizzata Di rischiare poco Chiaramente Ci sono anche Le qualità degli avversari E Rimini Ha tanta qualità Quindi Si è riuscita A chiudere le indenne Ripartivamo discretamente Però poi Negli ultimi 20-30 metri Ci mancava sempre L'ultimo passaggio Però Primo tempo Finito E chiamiamolo Indenne Secondo tempo Credo che Se nel finale di gara Secondo me Un rigore nettissimo Su Cordella Su 1-0 E la girata Di Dolfi Al di là di questo Del che Rimini Non ha rubato Assolutamente niente La squadra mia È uscita molto Molto di più Nella ripresa Quando c'era Chiaramente Rischiando magari Qualche ripartenza Perché sapevamo Che Ho rivisto un po' Tutti i film A De Rimini Il Rimini Al di là della qualità Di gioco Parecchio si basa Sulle famose ripartenze Che sono micidiali Con giocatori velocissimi Che ti creano problemi Niente da dire Della squadra Obiettivamente Hanno fatto la partita loro È stata una bella battaglia È stato un bel test Di prova Ripeto Nel calcio Non si può fare sempre risultato Se ci riusciamo Era meglio Però ripartiamo Da Da questa partita Per cercare ancora Di migliorare Adesso Quando vengono a Rimini Ci provano tutti A cercare di portare via Qualche punticine È stato molto onesto Allora Sì È stato un mistero Simpatico La battutina È un bravo allenatore Ma allenato Quindi lo conosco bene Però Penso che abbia detto le cose Cose giuste Adesso rigore Non so se Ci poteva stare Perché non ci ho neanche reso conto Però sicuramente Hanno disputato una buona gara Una gara che dovevano fare Poi tutte le squadre Che vengono a Rimini Vengono per portarci via Quei qualcosa Che per noi vale Vale oro E per loro magari un punto Vale ancora di più Però noi Non possiamo lasciare nulla Senti ma questo campionato È così difficile È un campionato complicato Perché Non si sa mai cosa può succedere Vedete anche Lo stesso Romagna Romagna Centro Domenica scorsa Aveva perso 4-0 In casa Con Sansepolcro Ieri è andato a pareggiare Fiorenzo Quindi è un campionato difficile Che non c'è niente di scritto Può succedere di tutto Quindi è un campionato Che bisogna pensare Una preta alla volta Come ha detto il mister Valentina Ora ci premiamo qualche minuto E diamo la linea alla pubblicità Mamma voglio andare al Muccio Mas Muccio Mas È il nuovo Risto Family Di Rimini Dove puoi gustare ottimi piatti E rilassarti Mentre i tuoi bambini giocano Ti aspettano prelibatezze maremonti Dolci fatti in casa Pizze speciali e classiche E menu per bimbi Inoltre Animazioni tutti i giorni Con trucca bimbi Baby dance E palloncini Pacchetti compleanni All inclusive con saletta privata Menu a richiesta per gruppi Cene aziendali o di classe E ricorrenze speciali Muccio Mas La risposta alle tue esigenze Gioca, ridi e gusta Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini Info e prenotazioni Anche con Whatsapp 335 47 5457 Quando entri in una stanza d'albergo E chiudi la porta Sai che c'è un segreto Un lusso, una fantasia C'è il comfort C'è la rassicurazione Tutto questo è un hotel sombrero Ideale per tranquillità, relax E benessere Per vacanze speciali Da condividere con tutta la famiglia Al mare di Riva Azzurra Posto sulla spiaggia Con il mare a chilometro zero L'hotel sombrero È dotato di tre stelle Con piscina riscaldata Idromassaggio Wifi in camera Parcheggio coperto E tante attenzioni Per bambini e amici a quattro zampe E se l'estate passa Noi vi aspettiamo Per trascorrere il Capodanno La Pasqua E organizzare comunioni Hotel sombrero Viale Regina Margherita 44 A Riva Azzurra di Rimini Info Hotelsombrero.com A Viserbella Trovi l'Adriatico Il più antico ristorante e pizzeria Che offre la migliore ospitalità romagnola Tra le specialità Pesce freschissimo Di eccellente qualità Selezionato Dai migliori fornitori Carni di primissima scelta Pizze giganti E ricche di ingredienti Freschi di stagione Realizzate con un impasto Ad alta digeribilità Dalla pizza Alla tagliata di manzo Passando per gli antipasti di pesce Provando tutti i veri sapori Delle specialità mediterrane Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour Un aperitivo fatto in casa Con una ricetta speciale Ristorante, pizzeria, bar Adriatico A Viserbella In via Portopalos 64 Info 0541 72 15 55 Sono Fabio Giancarlo Titolare della DGDF Fornitalia Vi vorrei presentare i prodotti Che costruiamo in questa azienda La nostra azienda Costruiamo forni di tutte le misure Impastatrici di tutte le misure Spogliatrici per pasta di tutte le misure Varie sfogliatrici per la pasticceria Stendipizza o stendipiada Secondo il vostro uso E griglie petrolavica E anche cuoci piade elettrici Di varie misure Vi aspetto in azienda Credi davvero che bastino poche parole Per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusa Rull Da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna Nel modo più genuino Prova i nostri piatti A base di pasta fatta in casa E le nostre pizze Cotte nel forno a legno Timbotta è il nostro motto Da sempre offriamo qualità Ristorante Brusa Rull Via Sant'Arcangielese A Poggio Berni Con ampio parcheggio esterno E isola per bambini Info 0541 68 81 80 O brusa rull.com A Poggio Berni 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 Al ristorante Pizzeria Al Gufo Ti aspettano a pranzo e a cena I sapori della tradizione italiana Al Gufo si possono assaporare Menù di carne e pesce Ottimi vini E una pizza altamente digeribile Grazie alla lunga lievitazione naturale Con impasto anche al camut e sette cereali Poi la tipica cucina romagnola Con la pasta fatta in casa Mmm che bontà L'accoglienza e l'eleganza del locale Mostra riguardo per tutti i tipi di clientela Ideale per organizzare cene aziendali La cucina e la pizzeria Lavorano anche da sporto Mentre su prenotazione Menù di crudità e per ciliaci Ristorante Al Gufo Via Losanna 44 Miramare di Rimini Di fronte a Aeroporto Fellini Tizzi facciamo gli auguri al Rimini Calcio Facciamo gli auguri al Rimini Calcio Ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio Dovete vedere la tradizione Sport Up Ciao Rimini Calcio In bocca al lupo E allora e andiamo ragazzi Inizio ad arrivare un po' di complimenti anche per te Seconda puntata E quindi davvero Siamo quasi Se lo posso leggere Valentina sei bellissime stupende Complimenti a te Ci seguono da Bologna Gianluca da Bologna Fortunatamente Ciao Gianluca Grazie mille Adesso l'hai sciolto Adesso si dà la pazza gioia Abbiamo già capito Ah guardami Senti adesso ci fermiamo un attimo Che ascoltiamo anche i nostri ospiti Poi lanciamo il prossimo servizio Massimo Allora è un Rimini Che fino a questo momento Sta rispettando un po' la tabella di marcia Anche se prima hai detto un po' delle cose Che ti convincono E che non ti convincono Sai benissimo che qualcuno In questo studio dice sempre Che è un campionato Che ha delle squadre Che non rispecchiano Difese Attacco Quindi squadre tecnicamente scarse Tu come lo vedi questo campionato No assolutamente no Vediamo Vediamo praticamente Il problema del Rimini Forse Ma non lo dico io Solamente Qualche gol presi Praticamente Prima Petty diceva che Sono contenti di non averlo preso domenica E chiaramente È un primo segnale È un primo segnale Che serve Perché Rimini Ne ha fatti tanti Ma ne ha anche presi qualcuno in più Le prime da davanti La differenza La fanno forse Con i gol subiti I gol fatti Stavo vedendo infatti Ferenzola Solo 8 Riti subiti Rimini di San Nova Ad esempio Ecco E quindi È chiaro che le differenze Delle difese La fanno in qualsiasi campionato Fa un certo effetto massimo Vedere la pianese Decima in classifica Ad esempio 11 reti incassate Seconda Terza migliore difesa del campionato E sì Però se Se non Non prendi gol E poi dopo Non si passa mai La metà campo E abbiamo fatto Un problema È un problema diverso Però io ti sto facendo queste domande Perché laggiù in fondo Sull'out di sinistra C'è pronto il nostro attaccante Anzi il nostro esterno Cristiano Cerbara Questi molese Tu l'hai vista Bene contro il Rimini Ieri ha vinto il derby Conto il Castelveto Può arrivare lontano Come noi Adesso ieri Guardavamo il risultato Del Fiorenzuola E del Vila Biagio Senti Tanto il campionato Lo vince di Molese No Sentiamo Non so se Devo tirare Bo No Lentigio Cristiano Lentigio Lentigio Ma ormai Lentigio Lentigio No Limonese Penso che Arriva Penso che Abbia carburato Peccato che La spinta Se l'abbiamo Andata proprio Noi due domeniche Fa Però dai So Parti di scherzi Questa è una squadra Che puntava Ad andare su Già l'anno scorso Figuriamoci Quest'anno Mi pare Che il recente Acquisto Di Carraro Dico bene Centrocampista Ex Modena Rossi anche Insomma Lo conferma Non credo che Stiano lesinando Risorse Cioè se c'è qualcosa Da prendere Lo prendono Evidentemente Puntano ad andare su I valori ci sono Li abbiamo visti Purtroppo anche A nostre spese Anche se il risultato Poi magari Ci dovesse giocare Altre cento volte Non sarebbe più quello Però Credo che Sia giusto Che I fari Che qui dentro Sono molto caldi Li puntiamo Tutti quanti Sull'Imo Lese E poi noi magari Quando è primavera Magari giochiamo Uno scazzetto Va bene Va bene Adesso tra poco Voglio sentire Sia Massimo Che Cristiano Andiamo avanti Valentina Ora andiamo a vedere Le interviste Dei protagonisti Biancorossi Bravo Mamma Voglio andare Al Mucho Mas Mucho Mas È il nuovo Risto Family Di Rimini Dove puoi gustare Ottimi piatti E rilassarti Mentre i tuoi bambini Giocano Ti aspettano Prelebattezza e maremonti Dolci fatti in casa Pizze speciali Classiche E menù per bimbi Inoltre Animazioni tutti i giorni Con trucca bimbi Baby dance E palloncini Pacchetti compleanni All inclusive Con saletta privata Menu a richiesta Per gruppi Cene aziendali O di classe E ricorrenze speciali Mucho Mas La risposta alle tue esigenze Gioca Ridi E gusta Ci trovi In Via Losanna 35 a Rimini Info e prenotazioni Anche con Whatsapp 335 47 5457 Scott Un'esultanza Che vale L'importanza Di questo gol Il primo Quest'anno Anche bello Tosto Beh assolutamente Era una partita Molto importante È stato il gol Che l'ha sbloccata Comunque Diciamo che era un peso Che avevo dentro Era un po' di giornate Che non facevo gol E la prima cosa Che mi è passata Per la testa Era di andare a sultare Sotto i nostri tifosi Quindi l'ho fatto No Ci siamo partiti io Comunque In un ruolo Che non faccio quasi mai Ma Ci siamo adattati Comunque Penso molto bene E comunque Giocare con Cicari È abbastanza facile Perché ogni movimento Che fai Ti trovi quasi sempre Davanti alla porta Quindi Siamo contenti Una posizione Quella comunque Che ti permette Di essere Forse più incisivo Diciamo Se il gol È arrivato oggi Diciamo che Sì Sì No Comunque Giocare punta punta Pura Prima punta centrale Hai più palloni Comunque Magari da sporcare Verso la porta Oppure ti arrivano Più occasioni chiare Però Dietro c'è comunque Un lavoro di tutti Gli altri compagni Quindi Qualsiasi sia la posizione Le occasioni Dovrebbero arrivare Qualsiasi partita Nel primo tempo Avete trovato Fondamentalmente Un muro No Della Trestina E Sì Penso Ma è stato comunque Complicato Riuscire a scardinarli Sì Sì No Assolutamente Il primo tempo Trovare le vie Il passaggio tra le linee È stato molto complicato Perché loro erano molto chiusi Però Ci siamo comportati bene Abbiamo avuto occasioni Nel primo tempo E poi si è riusciti A sbloccarla nel secondo Quindi Dopo è filata liscia Più che altro È una cosa Che è avvenuta Così in partita Magari Dalla mia parte C'era più spazio Per poter attaccare Il difensore E tendevo di più Tendevamo di più A giocare Dalla mia parte Però non l'abbiamo provato Durante la settimana Questa cosa Sì Più che altro È così Queste partite Che sono davvero decisive Se Non si riesce a fare subito gol Diventa un po' Diciamo Un po' complicato Ma L'importante È non perdere la testa In queste circostanze Cercare di star lì Cercare di giocare E prima o poi Il gol si trova Come abbiamo fatto Alla fine Sì Ci eravamo scherzati un po' Cosa che non dovrebbe succedere Però Capita Sì Diciamo È stato un gol Che Ha chiuso un po' La partita Perché Ci siamo tirati fuori Da un bruttissimo momento E Sono contento Di aver Realizzato questo gol Molto importante Per chiudere la partita E Di terminarla così In poche parole Che scuola tipi Che scuola tipi Stavamo ridendo Perché mi stava partendo Un rosso neri diretto Un po' la pubblicità Con crudele nazionali Un po' il fatto che Nei fuori Diciamo quando vanno Fuori onda Nei sì Nei fuori onda nostre Parliamo un po' Delle nostre cavolate Siamo Quasi tutti Rosso neri Qui dentro E mi stava parlando Sono una Tiposissima Bianco rossa Ma anche purtroppo Sottolineo Purtroppo in questo momento Una tiposa rosso nera Non ricordarlo però Andiamo avanti È dato un input importante Perché tra poco Affronteremo Un servizio Inerente un po' A quello che sta succedendo Nel pianeta Italia Volevo Ho perso anche più Il discorso Volevo Volevo chiedere anche Al nostro Emanuele Ti è piaciuto il ragazzino Riferimento Scott Arlotti Come ha preso ieri Il peso dell'attacco Visto che mancavano Due grandi colossi Come Ambrosini E Buonaventura O meglio Erano in panchina Ma sia Sia lui Che Guibre Stanno crescendo molto Secondo me Sono due giocatori Che pian piano Stanno arrivando A dei livelli Veramente importanti Arlotti Forse ieri È ancora più Una sorpresa Perché per la prima volta Si è trovato proprio La responsabilità Dell'attacco Tutta sulle sue spalle E ha risposto presente Ha fatto una bellissima partita Un bellissimo gol Ma si è mosso molto bene Ha fatto tutto molto bene Quindi Speriamo che continuano così Tutti e due Crescendo bene Senza strafare All'ombra Magari anche di qualcuno Con le spalle un pochino più larghe Che nei momenti opportuni Li sa anche un pochino Coprire Dalle responsabilità Perché non va sempre bene Come ieri Però Era veramente Una prestazione maiuscola Di entrambi Io non escludo che arrivi Anche qualche richiesta Per Guiebre Io lo temo Troppo Soprattutto Guiebre Infatti tra poco Volevo chiedervi una cosa Però vado con ordine Poi arrivo anche a te Emanuele Per quanto riguarda La partita di sabato Massimo Qui ti faccio vedere Una cosa Che adesso Lancerà la nostra Valentina Così mi dai Una risposta anche tua Perché C'è stata in settimana Un'intervista Tra l'altro Molto bella Del nostro collega Nicola Del Corriere Romano Nicola Stratacapo Stavo parlando di lui Ovviamente venerdì Riferimento proprio Al presidente Del Rimini Giorgio Grassi Un'intervista molto interessante Dove il presidente Parla di alcuni Riferimenti calcistici Come in passato La Francia E ne è presente Germania e Spagna Valentina Cosa andiamo a vedere? Il focus di questa sera È legato al flop De Nazionale Azzurra Purtroppo Con una ripartenza Seguendo il modello tedesco Quando entri In una stanza d'albergo E chiudi la porta Sai che c'è un segreto Un lusso Una fantasia C'è il comfort C'è la rassicurazione Tutto questo è l'hotel sombrero Ideale per tranquillità Relax e benessere Per vacanze speciali Da condividere Con tutta la famiglia Al mare di Riva Azzurra Posto sulla spiaggia Con il mare a chilometro zero L'hotel sombrero È dotato di tre stelle Con piscina riscaldata Idromassaggio Wifi in camera Parcheggio coperto E tante attenzioni Per bambini e amici A quattro zampe E se l'estate passa Noi vi aspettiamo Per trascorrere il capodanno La Pasqua E organizzare comunioni Hotel sombrero Viale Regina Margherita 44 Arriva Azzurra di Rimini Info Hotelsombrero.com Una cosa I tedeschi ce l'hanno insegnata E noi italiani Dovremmo davvero prendere appunti Ci hanno fatto capire Che nel calcio Come nella vita Le crisi vere Costringono a riflettere In modo profondo Su quello che stai facendo Diventando delle opportunità Chi non capisce Che ogni tanto Bisogna togliere il pilota automatico Dovrà prima o poi Prestare con tutta la sua forza Sul freno Per non cadere Né precipizio La Germania calcistica Si è trovata sull'oro del burrone Nei primi anni 2000 Ma poi ha saputo ritrovare La strada maestra Bisognava buttare giù Tutto e ricostruire Partendo dalle fondamente Se tanto ho parlato Dei milioni che crebbe Sono stati costretti A investire nel settore giovanile O delle liste di proprietà Lasciate in eredità Da Germania 2006 Ma senza quelle scelte di ieri Il cielo di Rio Non si sarebbe dipinto Dei colori della Germania La Germania ok È un paese ricco Il più ricco d'Europa Il segreto I soldi si investono In strutture nei giovani Non si buttano negli ingaggi Quando Ballack Il più forte dei suoi tempi Andò a battere casa al Bayern Gli fecero cortesemente Vedere dove era la porta E l'allora capitato Dalla nazionale Fece le valigie Per andare alla corte Di Roman Abramovic Al Chelsea La cross di Andrew Schur Classe 1990 Al gol di Mario Goz Classe 1992 Che con una prudezza personale Decise la finale Di al mondiale brasiliano Regalando alla Germania Il quarto titolo Della sua storia È già riassunto qui Forse nell'azione decisiva Dei supplementari Il segreto della Germania Che dopo il disastro Dell'europeo 2004 Ha deciso di riformare Il suo calcio E di affidarsi ai giovani I frutti sono arrivati Non ha proceduto all'italiana Con molti programmi E pochi fatti Ha costruito i centri federali Per i ragazzini Prendendo ispirazione Da quelli di formazione Della Francia Ha investito 800 milioni di euro Sui vivai Di cui tre quarti Provenienti dai club Per salvare Il movimento Con obbligo Di un numero minimo Di giocatori indigeni Nelle giovanili Provatelo a dire Allo titolo e Deo Laurentiis Non solo i vari cross Zilbo Ateng Chedira Müller Tanto per citarne alcuni Hanno il privilegio Di essere titolari Nelle rispettive squadre Molte delle quali Assidio è protagonista Delle finale europee Non sono dettagli La costitudine A giocare in certi teatri Aiuta a superare I momenti critici Come quelli che la Germania Ha dovuto affrontare Nella delicata finale Con l'Argentina In politica Come nello sport I tedeschi Piace comandare Ma va dato loro Atto di una superiore Capacità organizzativa E di una risposta Sempre seria Ai problemi interni Lo fecero Dopo due guerre perse Risollevandosi in pochi anni Molto più in piccolo L'hanno saputo fare nel calcio Portandolo alla ribalta del mondo Con una generazione formidabile Che l'Italia Oggi ci sogna Noi ci siamo persi I nostri giovani soprattutto Loro no Ci salva da lezione Per ripartire Massimo Io di sia Questo Neanche fa la posta Venerdì Il presidente Grassi Parlava di questo modello Lo stesso venerdì Su Altarimi Io ho fatto la mia rubrica Indiscrito Dove appunto Appoggiavo Già negli scorsi giorni Prima che parlassi Il presidente Di questo modello Da seguire Perché giustamente La cosa è nata Subito dopo a caldo L'eliminazione Dal mondiale Da parte Cioè L'eliminazione Dalla possibilità Di qualificarsi al mondiale Da parte dell'Italia Cosa occorre fare Per farti una domanda Secca Non è semplice Non è semplice Intanto non partirei Sempre dall'ultimo pezzo Cioè Che serve Sempre una sconfitta Eclatante Per poi Rimettere in In discussione Tutto il movimento E comincerei Dalle scuole Perché la scuola italiana È quella che Dedica meno ore Ai ragazzi Intanto Comincerei da questo Poi che vanno a giocare A basket Che vanno a giocare In altre discipline Cambia veramente poco Chiaramente Ho avuto anche un piccolo passato Come Selezionatore di Lega Pro Nell'Under 18 E Lavorato con Bertotto Con Bertotto Sì E abbiamo Anche lì visto Anche lì visto che ci sono Delle situazioni Da rimettere a posto È un po' più complicato Di quello che sembra Ma già I centri federali Vanno benissimo Però ai centri federali Magari Molto spesso Ci arrivano Perché il nome Viene fatto Dalla società E non c'è magari Nessuno che Va sui campi A vedere realmente Quelle che sono La realtà Delle squadre Che compongono Poi Questi campionati E quindi È un po' da rifondare Un po' tutto In tutte le situazioni Non voglio essere Disfaccista Però Se in molti Grandi allenatori Non accettano Anche la conduzione Della prima squadra Evidentemente Le problematiche Non sono solamente Sui giocatori Finiti Ma sono anche Su Su tante altre situazioni Che magari dietro Noi non conosciamo Non vediamo bene Cristiano Mi rispondi In maniera anche tu Molto secca Questa domanda Che sto per farti Nell'intervista Che ha rilasciato Il nostro collega Nicola Giorgio Grassi Parla di Un riferimento Come stadio L'Amsterdam Arena Che si trova ovviamente In Olanda Stadio dell'Ajax Riferimento Perché lui dice Il Neri Qualora ci potesse Essere la possibilità Oltre a gestire Appunto L'evento sportivo Intensio Come di minicalcio Si potrebbero gestire Anche altre manifestazioni Tu è un'idea Che sposeresti È un'idea Che secondo te Nessuno ti dà una mano Qui a Rimini Oppure non so Come l'avete Dimmi la tua L'Ostradio Marena Che se non ricordo male Inaugura proprio il Milan Sì 3 a 0 In un'amichevole Bravo In un agosto del 1900 Non mi ricordo 96 Bravo Maglia nera per il Milan Maglia arancione Bianca e rossa per l'Ajax Prego Le idee che ha Il Patron Grassi Sono decisamente Buone Nella maggior parte Di casi Io però Sai Vivendo questa realtà Come me e tanti altri Da molti anni Purtroppo Lo scoglio dello stadio Più che uno scoglio È un iceberg Da Da Titanic Nel senso che Chiunque ha provato A Circomnavigarlo Poi è finito Per sbatterci contro E non c'è stato Niente da fare Io penso solo a questo Se Un presidente Non me ne voglia nessuno Se Il presidente Vincenzo Bellavista Non ce l'ha fatta Io non so veramente Come Come possa succedere Che qualcun altro Ci riesca Insomma Scusate Il mio pessimismo Però Ormai ne abbiamo visto Di cotte e di crude Cioè Bellissime Bellissime idee Bellissimi intendimenti Bellissime prospettive Poi però Bisogna scontrarsi Come una realtà Che qui a Rimini Insomma dai Ragazzi lo stadio Ne parliamo da 50 anni Ed è sempre quello Mi trovi d'accordo Infatti quando ho letto L'intervista Sarà un motivo Adesso Emanuele Arrivo anche da te E so che Ti faccio dire qualcosa in più Però prima chiedevo Un cambiamento di servizio Stefano Se riesci Vorrei vedere L'art bonus Quindi ti do il tempo Di prepararlo Perché faccio una domanda Alessio È richiesto anche Uno stadio Forse migliore Qui a Rimini Tu come lo vedi Da protagonista In campo Il mio parere Comunque sia A prescindere Non solamente Rimini Credo che Comunque sia gli stadi Con la pista Atletica intorno Secondo me Ormai Secondo me È un peccato Però comunque sia Senti anche Magari Il pubblico Un po' più lontano Come stanno facendo Adesso gli stadi nuove Come è stato Quello dell'evento Stadium Il nuovo Del Frosinone Il stadi adesso Senza Senza la pista Atletica Secondo me È ancora più bello E sembra Siamo di andare A teatro Comunque sia Sei proprio lì Attaccato Ai giocatori Quindi ti Trasmettono Anche qualcosa in più Però Come hanno detto Fino adesso È un passo Importante Che non riescono a fare Squadra di serie A Quindi In serie B È ancora Più complicato Però hai detto Quello che noi abbiamo Detto più volte Sì l'abbiamo fatto capire In maniera educata L'amministrazione Come lo stesso I tifosi Lo hanno sempre ribadito Gli stessi protagonisti Calciatori Dirigenti Che è uno stadio Massimo Dimono anche tu Con la pista D'atletica Rovina Il fascino Dal tifoso Perché so che Anche in curve Emanuele Non è che si veda Benissimo la partita Non si vede niente Diciamolo Dalla parte opposta Non si vede Veramente niente Diciamolo questa cosa Ma è una chimera Non c'è solo Romeo Nero È una chimera Bravissimo No È qui che ti volevo Far arrivare Infatti Proprio oggi Adesso noi Leggiamo solamente Il comunicato Che è uscito oggi Probabilmente Uscirà anche domani Su altri giornali Quello che è stato detto Oggi Da parte dell'assessore Brassini Per quanto riguarda L'arte bonus Do a telecamere spinte Tu giustamente Dicevi certe cifre E io l'ho riportato Per l'appunto Dentro di servizio Andiamo a sentire Un attimo Questo servizio E di circa 800 mila euro Contributo dato dai privati A sostegno di sette interventi Di valorizzazione del patrimonio artistico E culturale riminese Attraverso l'arte bonus L'agevolazione fiscale Introdotta al governo Per incentivare Il mecenatismo culturale Una cifra che colloca Rimini tra le realtà Che se non hanno saputo Cogliere l'opportunità Che secondo i dati diffusi ieri Vede l'Emilia Romagna In quarta posizione in Italia Con interventi compressivi Per oltre 24 milioni Nel corso degli ultimi due anni Sono stati quattro Gli interventi Confinanziati E coperti Con l'arte bonus Che sono già completati E hanno interessato Il progetto degli scavi Archeologici di Piazza Malatesta La realizzazione Del parco archeologico Al ponte di Tiberio E la biblioteca Gambalunga Con la riqualificazione Energetica Il restauro E l'acquisto di libri Quattro ambiti di intervento Per un unico mecenate Il gruppo SGR Che ha confermato l'impegno Anche per uno degli interventi Che l'amministrazione Ha aperto All'opportunità Dell'art bonus E che riguarda Il sostegno Al patrimonio Della Gambalunghiana Progetto che ha già raccolto Anche l'adesione Del gruppo Maggioli Attualmente In corso di realizzazione Facendo un primo bilancio Di questo anno e mezzo Possiamo essere Moderatamente soddisfatti Sottolinea l'assessore Al bilancio Gianluca Brasini Soprattutto se paragoniamo La realtà del nostro territorio A quella Delle regioni Del centro-sud Zone ricche di tesori Artistici e culturali Ma dove i privati Sono più Refrettari a investire Nel caso dei rimini Abbiamo avuto finora La fortuna di trovare In particolare Un paio di soggetti Importanti Che ringraziamo ancora una volta Che hanno deciso Di sposare i progetti Per la città Ma speriamo che Nei prossimi mesi Altri gruppi industriali O singoli imprenditori Possano aggiungersi All'elenco dei mecenati Sostenendo l'ente pubblico Nel percorso di valorizzazione E tutela Del prezioso patrimonio Culturale della città Per questo Non ci lasciamo prendere Dall'entusiasmo Perché la possibilità E le potenzialità Sono ancora enormi L'altruismo E la generosità Anche il campo culturale E artistico Sono una bella forma Di partecipazione Tra i progetti Attualmente in corso Finanziabili attraverso L'Art Bonus C'è il restauro Della tribuna storica Dello stadio Romeo Neri Che allo stato attuale Può contare Sul contributo di gravo A FSPA E su tre privati Che hanno voluto Sposare la causa Con piccoli contributi L'Art Bonus Garantisce un credito D'imposta Nella misura Del 65% Delle erogazioni liberali Effettuate a sostegno Della cultura Ti faccio parlare Su tre argomenti Emanuele Primo lo stadio Mi dici la tua Aggiungendo Penso un pezzo finale A quello che ha detto Cristiano La trasferta Coromagna Centro Cosa ti garba Cosa non ti garba E soprattutto Ricordare ai nostri spettatori A casa Come organizzarsi Per spostarsi Sabato pomeriggio Al Dino Manuzzi Sì Guarda Molto brevemente Sullo stadio La faccio molto breve Io auguro a Grassi Di riuscire Dove nessuno È mai riuscito Perché ne va del bene Del Rimini Il Rimini è la mia passione Quindi se lui riesce Sono doppiamente contento Ma secondo me Inseguire il Neri È una chimera Il Neri A un certo punto Per il calcio Andrebbe abbandonato Il Neri Deve rimanere Una specie di salotto Per la città L'Amsterdam Arena Solo per il 13% Fa giocare a calcio Nel resto del tempo Fa eventi Manifestazioni Che pagano Non fanno correre I bambini delle scuole medie Non fanno lanciare Il peso A tre persone Non fanno lanciare Il giavellotto A quattro persone In primavera Eccetera 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 Con tutto il rispetto Di chi tira giavellotto Di chi tira qualunque cosa Tutti hanno il diritto Di fare lo sport Che scegliono È chiaro che se hai un impianto solo Devi fare solamente con quello È difficile che ci possa essere Qualcuno Che prevale sugli altri E può far fruttare l'impianto Non è il suo Lo usa per un 10% Vai lì ci sono le luci accese Io vado a prendere mio figlio Alle 10 della sera Che fa karate al palazzetto Ci sono i lampioni accesi La gente corre anche di notte Questo è bellissimo Da un certo punto di vista Però è chiaro Che non puoi Toglierlo alla città E darlo al calcio E far sì che il calcio Faccia tutto quello Che vuole lui È secondo me Impossibile Ma Voglio credere Che l'impossibile Possa diventare possibile Questo perché Giorgio deve continuare A crederci E sperare che le cose Vadano come devono andare Per il bene del Rimini Capitolo Romagna Centro Perché non sono contento Di andare là Vai Perché anche ieri Andando allo stadio A un certo punto C'erano due striscioni Belli grandi Ore 12 in stazione E qui do già un'indicazione Se non sapete Come andare Trovatevi con i ragazzi Della curva In stazione a mezzogiorno E si va su in corteo È bellissimo andare È una cosa simpatica Si Si diverte anche E Ore 12 Tutti in stazione Tutti a Cesena Si Non andiamo a Cesena Noi andiamo a Martorano Noi giochiamo con La squadra di Martorano Che è Romagna Centro Avessimo giocato a Martorano Non c'era scritto Ore 12 Tutti a Martorano Quindi Metterci di mezzo a Cesena Droga la situazione Per due motivi La prima volta L'abbiamo provato Tre anni fa Si Eravamo appena retrocessi Avevamo una squadra Che stava dominando La Serie D Andiamo a Cesena Ci troviamo in uno stadio Che è un teatro Un posto meraviglioso Noi con la nostra Solita catapecchia Convinti che andiamo a giocare lì Come se fossimo dietro A giocare col Cesena In realtà il Cesena È due categorie sopra La distanza di tre anni Cos'è cambiato? Che noi abbiamo fatto Addirittura l'eccellenza Siamo ancora due categorie sotto Come quella volta là Abbiamo ancora una catapecchia Ci stiamo svenando Per cercare di togliere Le chiusure Le ringiere Chiediamo il permesso Per il maxischermo Ma là vedremo Cosa c'è sabato Là c'è un signor stadio E andiamo lì Facendo finta Illudendoci di giocare Col Cesena Non è vero In quelle situazioni lì Quando c'è tutto Il movimento di massa Andiamo su in mille Magari si aggiunge Qualcuno delle istituzioni Tutti ridono Sembra che siamo tutti contenti Magari vinciamo anche Non voglio neanche pensare Che possiamo perdere Dentro quello stadio lì Però io ho amici Più appassionati anche di me Che mi hanno detto Io finché non giochiamo Col Cesena Nello stadio del Cesena Non ci vengo Perché io lì dentro Ci vengo Solamente quando gioco Contro il Cesena E lo capisco Io sarò al mio posto E mi auguro Che saremo tantissimi Perché come dicevo prima Facciamo vedere chi siamo Facciamo vedere chi saremmo noi Con uno stadio decente Da poter utilizzare Però noi andiamo lì Semplicemente perché lì c'è più posto Semplicemente perché ci vogliono far pagare Tra virgolette ci mungono Perché se andavamo a Martorano Andavamo in 200 E il campo era pieno Andiamo lì a Cesena Andiamo in 1000 C'è posto per tutti Quindi è un'operazione commerciale Che gioca sui nostri sentimenti E gioca sulle loro tasche Ci sta benissimo Va benissimo Andiamo e divertiamoci Però andiamoci con i piedi per terra Non è cambiato niente Siamo una squadra di serie B Tra l'altro Meno forte Di quella di tre anni fa Che dominava il campionato Andiamo di nuovo a Martorano Non andiamo a Cesena Non avremmo scritto tutti a Martorano Come non abbiamo scritto tutti a Meldola L'anno scorso Che più o meno è la stessa roba Andiamo Divertiamoci però con i piedi per terra Non esaltiamoci Perché domenica Non è la trasferta delle trasferte Domenica ci mettono E come se noi andiamo a vedere Alla scala di Milano Una rappresentazione dialettale Perché non avevano posto Nel teatrino della parrocchia E ci mettono alla scala Ma stiamo guardando il teatro dialettale E lì la stessa cosa Per questioni di capienza Ci mettono al Manussi Ma non andiamo a giocare con il Cesena al Manussi Ci sarà qualche cretino Con la sciarpetta che ci prende in giro Ma per il resto Ho capito Sta a noi non prendersi in giro da soli Ecco qual è il succo Mi trovi d'accordo Mi trovi d'accordo La differenza è che tre anni fa Vincendo quella partita C'era la matematica Promozione in C Che poi invece non arriva 2-2 Signor Di Maio al novantesimo Altrimenti Sarebbe una sconfitta incredibile Poi la promozione arriva A settimana dopo Ora è la volta Della presentazione Del prossimo avversario Del Rimini Il Romagna centro Al ristorante pizzeria al gufo Ti aspettano a pranzo e a cena I sapori della tradizione italiana Al gufo si possono assaporare Menù di carne e pesce Ottimi vini E una pizza altamente digeribile Grazie alla lunga lievitazione naturale Con impasto anche al camut E sette cereali Poi la tipica cucina romagnola Con la pasta fatta in casa Mmm che bontà L'accoglienza e l'eleganza del locale Mostra riguardo per tutti i tipi di clientela Ideale per organizzare cene aziendali La cucina e la pizzeria Lavorano anche da sporto Mentre su prenotazione Menù di crudità e per ciliaci Ristorante al gufo Via Losanna 44 Miramare di Rimini Di fronte a aeroporto Fellini Il Romagna centro Disputa la sua terza stagione in serie D In cassa quasi quanto segna Con una media di un gol a partita L'età della rosa Sa giratore 19,5 Il campionato in bomba del torneo Risulta essere Cecconi Con l'allattivo ben 6 centri Soprinde il rendimento Della formazione anelata Tecnico ex Cesene Bellare Nicola Campedelli Meno in trasferta che in casa In esterna ha ottenuto ben 14 punti A domicilio invece la metà Se hai le marcaturi in trasferte 9 Quelli in casa Invece le reti subite in casa Sono state ben 13 Quelli in esterna Una sola Non vanta grande continuità nei risultati Ha ottenuto solo due vittorie consecutive Per poi conoscere un nuovo stop Ma certamente una squadra ben allestita Che vantane alla propria formazione Nomi altisonanti come Centrocampista Ex Cesene San Marino Simone Braccini L'ex Rimini E poi Fiericcione Giacomo Cecconi Prodotto non a caso del Bologna L'ex bomber Nella passata stagione Del Bellaria Adesso indelicato Una squadra che dopo anni Gioca le prove partite interne Allo stadio di Martorano Infatti nelle precedenti stagioni Si era trasferita al Manuzzi Ma proprio a Manuzzi Causa ordine pubblico Giocherà la sfida più affascinante Di stagione contro i Rimini Le due squadre si affrontarono già in compitale Lo scorso agosto Con i biancorossi Che prevasero solamente La lotteria dei calci di rigore L'ultima volta che le due squadre Invece si affrontarono a Manuzzi I Rimini pareggiò al fotofini Su una partita da Cardio Palma 2-2 il risultato finale Nel turno tra l'altro Pre-Pasquale Laddove la tara del nemico Porta l'odore dei rivali Di semplici cenati I Rimini cercherà Di lanciarsi in paradiso Ebbene Siamo in dirittura d'arrivo Vediamo velocemente il prossimo turno L'abbiamo già detto La sfida più importante È quella di sabato pomeriggio Che vedrà il Rimini Di fronte allo stadio Manuzzi Di Cesena Contro il Romagna Centro Le indicazioni Le ha già date il nostro Emanuele Mi raccomando Accorrete numerosi Andiamo a salutare Nell'ordine Valentina Violini Grazie Per prima Grazie mille Buonasera a tutti Salutiamo l'allenatore Massimo Zanini Buonasera L'opinionista Biancorosso Emanuele Pironi Buonanotte Buonanotte a tutti Salutiamo il difensore Biancorosso Ringraziamo il rimini calcio Alessio Petti Grazie Buonanotte E salutiamo purtroppo Il giornalista Biancorosso Cristiano Cerbara Grazie Ciao alla prossima Purtroppo Noi ci rivediamo Un'edì prossimo Sempre qui Alle ore 20.45 Con SportUp Grazie ancora